La Diocesi di Brescia, in accordo con le Diocesi Lombarde, per venire incontro al lutto delle famiglie e considerata la situazione eccezionale, ha deciso di consentire le celebrazioni dei funerali alla presenza dell'urna cineraria. Il Vescovo Pierantonio Tremolada, in accordo con le autorità cittadine, esclusivamente per Brescia, celebra la Santa Messa Ezequiale, con la sola presenza delle urne cinerarie dei difunti presenti, che verranno ricordati e nominati personalmente. Lunedì 11 maggio il Vescovo ha presieduto la Messa nella Chiesa della Volta, i martedì 12 maggio al Vantiniano. Nell'Omelia al Vantiniano il Vescovo ha riletto questo tempo di dolore. Fratelli e sorelle, siamo radunati nel nome di Cristo risorto per celebrare l'Eucaristia in suffragio di questi nostri fratelli e sorelle che hanno concluso il loro pellegrinaggio terreno. La fede nella Ressurrezione dà la certezza che Dio farà risorgere i morti dalla polvere della terra a una vita nuova ed eterna. Se il distacco terreno da questi nostri fratelli e sorelle riempie il cuore di tristezza, la fede ci colma di serena speranza, al pensiero che la vita di ogni credente è custodita con tenerezza dalle mani paterne di Dio. Ecco le date delle prossime celebrazioni. Martedì 19 maggio alle 8 nel cimitero di Folzano. Mercoledì 20 alle 8 nel cimitero delle Fornaci. Sabato 23 alle 8 nel cimitero di Sant'Eofemia. Martedì 26 maggio alle 8 nel cimitero di San Francesco di Paola. Le celebrazioni sono in diretta sulla pagina Facebook del settimanale La Voce del Popolo e su Super TV.